ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco icopium a medicazione a cosa serve icopium a medicazione a un parafarmaco appartenente alla categoria degli pronto soccorso equipaggiamento è commercializzato in italia dall'azienda desa farma srl informazioni commerciali titolare desa farma srl concessionario desa farma srl categoria di appartenenza pronto soccorso equipaggiamento confezioni icopium a medicazione crioico ghiaccio istantaneo indicazioni è ideale per il trattamento di traumi distorsioni strappi muscolari e in tutte quelle situazioni in cui ha consigliato il primo soccorso con applicazione di ghiaccio descrizione e caratteristiche la busta in tessuto non tessuto pertanto non bagna ed appia delicata sulla pelle è pratico e pronto all'uso crio punto il co ha costituito da un sacchetto sigillato che una volta attivato fornisce dopo qualche istante una fonte di freddo a 0 a gradi per circa 30 40 minuti avvertenze prodotto solo per uso esterno non rompere l'involucro di contenimento tenere il sacchetto lontano da fonti di calore eccessive esempio fuoco eccetera fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato